E siamo allo spazio dell'approfondimento, oggi è con noi Diego Vida, produttore, esperto di effetti visivi, regista, buongiorno. Buongiorno. Impegnato in produzioni internazionali, lei ha base il lavoro all'estero, ma è tornato a Catania da scrittore e regista per raccontarci l'Opera dei Pupi. Partiamo proprio dall'idea originale, come nasce quest'idea? Sì, allora, l'Opera dei Pupi, a parte il patrimonio dell'UNESCO e poi il nostro patrimonio, che ne andiamo veramente orgogliosi, io ho reputato di girare un documentario molto approfondito per far vedere appunto come si sviluppa la tecnica, tutto quello che ci sta dietro il lavoro e la storicità, perché comunque oggi non è molto, diciamo, evidenziata questa cosa. E mi sono un po' documentato, ho visto un po' prima su internet, ho visto degli spettacoli che già avevo visto da piccolo, oggi li apprezza ancora di più, perché sai, quando uno è bambino, diciamo, hai così la sorpresa di vedere lo show, però non lo puoi apprezzare a 5, 6 anni, 7, oggi l'apprezzo molto di più, perché comunque a volte le storie sono molto profonde e arricchite. Ho interessato la famiglia Napoli, che loro sono dal 1921, tutt'oggi alla quarta generazione senza interruzioni, e abbiamo praticamente sviluppato questo progetto, ho deciso di fare vedere, oltre alla dinamica dei movimenti e tutto quello che ci sta dietro, nell'animazione, perché questa è un'animazione molto antica, oggi, diciamo, dovrebbero anche insegnarla negli effetti speciali, nel 3D, nella computer grafica, perché comunque questo è quello che è successo prima e dalla base. E quindi, oltre alla loro storia, è comunque tutta una serie di viaggi che hanno fatto perché hanno girato il mondo, e la tecnica, perché poi, oltre a quella di Catania, mi basso anche su quella di Palermo, sono due scuole bellissime, Palermo e Catania, perché hanno una differenza in comune, Palermo vengono animati lateralmente e quindi sfruttano alla profondità, Catania animano da dietro, e tutte le due scuole sono veramente, io penso che dovrebbero anche gli enti supportare e fare qualcosa per non fare perdere quest'arte. Lei è esperto di effetti visivi, cos'ha in comune questo settore cinematografico con l'opera dei pupi? Lei, tra l'altro, ha lavorato all'ultimo Mission Impossible, anche a Fast and Furious. Cosa c'è in comune tra questo aspetto cinematografico e l'opera dei pupi? Allora, in post-produzione e comunque anche in live, il compositing c'è sempre, cioè se io devo andare a compositare una scena per mettermi un personaggio in un'altra ambientazione, lo vado a fare, indipendentemente da quell'esigenza che a me serve in quel momento. Come dicevo prima, l'animazione questa dei pupi è molto antica, e quindi ha dato di far nascere tutto quello che riguarda il resto dell'animazione in CGI, cioè quella attuale, che oggi facciamo quasi tutto in 3D, anche in cartone animati, che una volta venivano disegnati, oggi vengono creati in 3D e dopo renderizzati in toon, e ci dà quell'effetto sempre cartunesco, ma alla fine oggi sfruttiamo tanto il 3D. Quanto è a rischio attualmente questa tradizione? Nel fare il documentario, davvero, cosa si rischia di perdere in Sicilia e quanto è in pericolo l'opera dei pupi? Purtroppo, non avendo nessun supporto, queste famiglie di tutte le città nostre siciliane fanno davvero, proprio per la volontà di farlo, perché hanno la passione, purtroppo gli enti non supportano e diventa veramente difficile. Alcuni anche hanno un altro lavoro e poi, proprio per non fare morire, non fare scomparire come successe ai pupi napoletani, fanno la sera anche gli spettacoli o comunque laboratori, hanno veramente della grande forza. Io spero che, a parte la crisi, si riesca in qualche modo a dargli una mano, perché non deve morire quest'arte, noi ne andiamo fieri. Nel realizzare questo docufilm, qual è la cosa più interessante, che è la sorpresa che non si aspettava di scoprire? Beh, innanzitutto, questi pupi sono davvero bellissimi. Cioè, ti basta pensare che per farne uno, non lo so, prende esempio l'Orlando, ci vuole addirittura sei mesi, perché sono curati in ogni minimo dettaglio, dall'armatura, alla sartoria, ai lineamenti. Cioè, veramente è un lavoro che è molto più, diciamo, doveroso di farlo che in CGI, perché in CGI, per esempio, per modellare un character... CGI parliamo sempre della... In 3D. In 3D, per fatto. Per modellare un personaggio, crearlo inizialmente, già ci impieghi da 5 giorni a 2 settimane, poi se lo devi anche texturizzare, mettergli materiali per renderlo credibile, e quindi realistico, oppure mettergli, diciamo, il rigging, che è praticamente il tracciato osseo per farlo muovere, chiaramente anche lì se ne può andare un mese, ma creare un pupo di quelle dimensioni lì, circa 70 centimetri, anzi, in tempi molto andichi erano quasi un metro e mezzo, insomma, ce ne vuole, è un bel lavoro. Lo fai proprio perché lo ami. Questo documentario, come potremmo vederlo, come sarà distribuito? Questo andrà oltre che in TV, anche nei film festival, perché ho deciso e sono riuscito ad ottenere tramite l'emittente che fosse no profit, perché oltre, diciamo, al patrimonio dell'UNESCO che già comunque valorizza questo tipo di arti, io volevo che venisse anche visto su internet, perché oggi abbiamo anche degli altri connazionali che vivono in Germania, vivono fuori, e quindi comunque dare la possibilità che potessero comunque visionarlo e farsi un'idea, perché attualmente esiste un reportage sui pupi siciliani fatto dall'Istituto Luce, che però purtroppo è un paio di minuti. Questa è l'unica al mondo invece dove spiega in modo dettagliato tutto quello che ci sta dietro alla marionettistica dei pupi siciliani. In chiusura un'ultima domanda, lei è partito da Catania, ha poi sviluppato la sua carriera all'estero, inevitabile dato questo tipo di settore, ecco ai giovani che sono interessati a questo tipo di esperienza, a questo tipo di settori, cosa si può consigliare, da dove si può partire? Per tutti gli appassionati che comunque vorrebbero entrare nella CGI sia da visual effector, cioè da effettista di effetti visivi, ossia invece da artista 3D, loro devono necessariamente iniziare frequentando delle scuole, anche se comunque si hanno la passione da soli si può in tante iniziare. E poi chiaramente andare in delle industrie all'estero, specialmente in Inghilterra, ora ce ne sono tante, che si occupano proprio di reclutare per videogiochi, o VFX House, cioè case di animazione, e già sono loro che si occupano queste agenzie di farti assumere dalle compagnie appropriate. Grazie Diego Vida per essere stato nostro ospite. Grazie a voi dell'invito.